Ciao ragazzi, come state? Allora Nella scorsa settimana non è uscito il video meglio, non sono usciti i video neanche in questa che è appena finita adesso che sto registrando, sono praticamente le due non ci starà neanche nella settimana prossima ed è molto triste molto triste per me capire che in questo momento non posso né registrare né editare nulla ragazzi quindi penso che magari rimetterò queste stories su youtube perlomeno aggiornare più velocemente e soprattutto aggiornare più persone vabbè, come io avevo già detto nel video di ritorno quando io ovviamente avrò voglia di aggiornarvi su qualcosa avrò voglia di postare qualcosa lo farò, ovviamente cercherò di essere attivo su youtube per conti che da aggiornamenti eccetera però credo che questo qua non sia proprio il momento di aggiornamenti non è il momento di registrazioni eccetera quindi credo che la cosa più giusta da fare sia dare un po' uno stop a youtube per qualche giorno e dopo ripartire